La scena Dopo Montgomery e Churchill Sala la tribuna a Eisenhower Uniti, dice Nello spirito che secolarmente animò l'Inghilterra Riusciremo a difendere la pace nel mondo Per concludere la commemorazione Schizzi umoristici eseguiti dai veterani del deserto Effetti delle sigarette inglesi Sui fumatori di barba del sultano La prima scarica era contagiosa Finiva con lo scaricare anche gli autisti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti